Siamo felici di accogliere qui a Torino, come Camera di Commercio, il 16esimo convegno mondiale di IWEC, questa grande associazione di imprenditrici da tutto il mondo, che sono qui oggi a Torino per due giorni di dibattiti su temi importantissimi come per esempio l'intelligenza artificiale, il suo impatto, oppure la sostenibilità e anche e soprattutto il ruolo delle donne nel mondo del lavoro.